ciao amici oggi vi parlo di 5 errori che si commettono nella passeggiata primo errore guardare il cellulare secondo errore strattonare il cane terzo errore uscire solo per fare i bisogni quattro errore fare sempre lo stesso giro e per finire quinto errore non uscire quando piove per il cane è una bellissima avventura mettete un mi piace iscrivetevi al canale e mi raccomando rimanete sempre aggiornati giorno e notte ciao ci rivediamo un altro video